Eh già, scandalizza di più l'imperfezione fisica che quella dell'anima. Tutti pronti a puntare il dito verso chi non è perfetto, per questi stupidi canoni societari seguiti da tante pecore, con tanto rispetto per le pecore, che si specchiano e si mirano dalla mattina alla sera davanti ad uno specchio lasciando marcire l'anima.